Pronto, ciao zia, ciao. Sì, sì, senti, volevo dirti che ci hanno preso. Sì, tutti e due. Ecco lo spettacolo che ti dicevo, siamo due in scena. Sì. E di cosa parla? Di cosa sono due ragazzi che si vogliono bene? Sono due ragazzi che si vogliono bene. No, zia, non è uno spettacolo di gay. No, 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 non è uno spettacolo di... No, no, no. È una storia, è una storia... L'amore. Non lo so se il regista è gay. Ma il regista è gay? Guido. Ma che gli frega? Che ti frega, zia, dai, vieni. Sì, allora, dal... Dal 22 al 27 febbraio. Dal 22 al 27 febbraio. Roma. Roma. Via della vetrina 7. Via della vetrina 7. Teatro Sofia. Teatro Sofia. Nessuno dopo di te. No, zia, dopo di te. È il titolo dello spettacolo. Nessuno dopo di te. Sì, vabbè, dai, vieni, mi raccomando. Ciao, zia, ciao. Ciao. Adoro.